Ragusa in festa oggi per i solenni festeggiamenti, il patrono principale San Giovanni Battista, un momento in cui la devozione dei fedeli vive le ore più intense e speciali, a cominciare dalla mattinata dove la cattedrale ha visto un notevole flusso di cittadini per seguire le varie celebrazioni eucaristiche. Nel tardo pomeriggio, come da tradizione, la solenne processione è con l'arca santa, seguita dalla moltitudine di ceri votivi cui partecipano il clero locale e le autorità cittadine. All'arrivo in piazza San Giovanni, al termine della lunga processione, il tradizionale saluto del vescovo Monsignor Carmelo Cuttitta e i fedeli alla città. A seguire, lo spettacolo pirotecnico e poi l'arriento del simulacro in cattedrale, dove viene celebrata l'ultima messa animata dalla corale giovanile. Contemporaneamente, in piazza San Giovanni, le note del tradizionale concerto dell'orchestra di fiati San Giorgio Città di Aguse, diretta dalla maestro Giacomo Antonio Palermo. A mezzanotte, quindi, la chiusura dei festeggiamenti con i fuochi pirotecnici. La festa proseguirà però nei prossimi giorni, con due serate della rassegna teatrale Monsignor Penisi, il primo settembre, con la consegna del braccio reliquario presso la parrocchia Mare Santissima Annunziata.